Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Negli ultimi video abbiamo visto tutte quelle che sono le regole non scritte che governano il rapporto tra master e giocatori e il rapporto dell'intero gruppo rispetto al gioco. A questo punto però sorge una domanda spontanea. Se queste regole non sono scritte come fanno i giocatori a saperle? Ovviamente guardando il canale del Master Kai. Ma nel caso non siano interessati a vedersi ore e ore di filmati di un ceccione che blatera c'è un metodo più universalmente riconosciuto. La sessione zero. Ok, avete scritto la vostra quest, preparato i personaggi, messo in ordine gli appunti. La storia è fatta. Adesso l'ultima cosa che resta da fare è chiamare gli altri giocatori e mettersi d'accordo su quando ci si trova e dove. No, non basta. Certo, sicuramente tutto il gruppo è ansioso di cominciare a giocare il prima possibile. Il fatto però è che affrettare le cose in questa fase non porterà altro che a perdere molto più tempo più avanti nella quest. La prima volta che il gruppo si raduna, soprattutto se è composto da gente che non si frequenta tra i loro, è sempre meglio dedicare la sessione a preparare i personaggi e intanto chiarire alcune convenzioni sul gioco che dovranno essere comuni a tutte. Prima di tutto bisogna assicurarsi che tutti al tavolo conoscano le regole o che comunque sappiano dove andarsene a procurare nel caso debbano studiarsele. Indipendentemente sarebbe comunque meglio che voi come master facciate un riassunto delle meccaniche principali del gioco anche solo per evitare possibili fraintendimenti. Soprattutto se voi per qualche motivo avete modificato le regole o ci sono delle richieste da parte dei giocatori di modificare o ignorare alcuni aspetti del gioco, assicuratevi che questi cambiamenti li sappiano tutti e che tutti siano d'accordo a implementarli, almeno in linea di principio. Considerate che ci sono persone che pretendono che il regolamento venga applicato alla lettera e persone che lo ritengono semplicemente un costrutto restrittivo e lo ignorerebbero volentieri. Chiarire prima quale sarà il livello di applicazione del regolamento vi eviterà molte più discussioni in seguito. Non sarebbe male neanche prendere una serie di accordi su quale comportamento tenere al tavolo. Se giocate con i vostri amici probabilmente non ce n'è bisogno, nel gruppo avrete già le vostre convenzioni implicite di comportamento, ma se dovete giocare con le strane o comunque persone che non frequentate più di tanto è meglio chiarire prima a chi vi ha fastidio cosa e perché. Magari a qualcuno dà fastidio che si fumi al tavolo o che girino alcolici. Magari qualcuno ha problemi di orario, non può arrivare prima di una certa ora o non può andarsene via più tardi di una certa ora perché domani lavora perché devo guardare i ragazzi. Ad alcuni dà magari fastidio un linguaggio particolarmente volgare e c'è anche chi non vuole passare una serata di gioco insieme a gente che gli rompe le palle perché beve fuma bestemmia. Se si gioca in casa ad altri o magari in un locale pubblico, in una ludoteca, assicuratevi che ci siano delle regole in questo posto e se ci sono che vengano rispettate. È sempre meglio chiarire prima che cosa il proprietario della stanza pretende che poi essere presi e buttati fuori a calci nel mezzo di una sessione. Discutete anche sul tono che volete dare alla campagna. Quanto devono essere crude le descrizioni del master? Quanto devono essere pulp gli argomenti che andranno trattati? Magari a qualcuno dei giocatori potrebbe sentirsi a disagio rispetto a certe situazioni. mettetevi anche d'accordo su che cosa vi aspettate o non vi aspettate dalla campagna. Se volete scene d'azione, se volete una storia investigativa. Non a tutti piacciono le stesse cose, magari il master dovrà prepararsi a mixare un po' di uno un po' dell'altro. Discutete anche su come gli altri giocatori preferiscono gestire il proprio personaggio. C'è gente che parla sempre in prima persona, fondamentalmente recitando il suo personaggio, e gente che si riferisce al personaggio in terza persona. C'è chi pretende un realismo totale una volta che sia al tavolo e a chi non importa, gli sta benissimo fare del metagioco tra un turno e l'altro. Nessuno di questi atteggiamenti e di per sé scorretto. Fate in modo di chiarire qual è il vostro atteggiamento come master e che tutti siano coscienti del modo che hanno gli altri di giocare. Una volta che voi come master avete chiarito le regole, fate in modo che i giocatori abbiano la possibilità di parlare e interagire tra di loro, soprattutto prima che comincino a creare i personaggi. Nella maggior parte dei giochi di ruolo, più un party è variegato, meglio è. Quindi, se i giocatori possono discutere un attimo tra i loro su chi fa cosa, eviteranno la situazione di trovarsi magari troppi specialisti in un campo e nessuno in grado di fare qualcos'altro. Inoltre, costruendo i personaggi e discutendone tutte insieme, hanno anche la possibilità di legare i personaggi tra loro e magari mettere insieme un minimo di storia condivisa su chi è l'Iparpi e che cosa sta facendo all'interno del mondo di gioco. Anche solo per evitare il cliché del gruppo di sconosciuti che si incontra per caso in una taverna e decise improvvisamente di mettere insieme una squadra e i tombaroli itineranti. Se nuovi giocatori dovessero entrare nel gruppo a campagna già avviata, non c'è bisogno che rifacciate un'intera nuova sessione 0. Però la prima volta che arrivano prendetevi quella mezz'ora per ricapitolargli le convenzioni del gruppo, le convenzioni sulle regole, le norme di comportamento e naturalmente chiedendogli di esprimere anche le loro preferenze sul gioco e le loro abitudini come giocatori. Questo non solo diminuirà la possibilità di contrasti più avanti, ma servirà anche a farli sentire più accettati all'interno del gruppo. Video lungo ma doveroso per chiudere tutto il discorso sulle regole non scritte. Diciamo che per adesso possiamo ritenerci soddisfatti. Naturalmente se avete domande, dubbi o perplessità o volete raccontarmi come voi gestite il vostro party, come il vostro master sia pronta alla sezione 0, usate l'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.